La mia posizione è assolutamente estranea a quassi voglia fatti specie di reato e auspico un espletamento rapidissimo di ogni indagine. Così si è pronunciato ieri il presidente della regione Luciano D'Alfonso sull'inchiesta coordinata dalla procura della Repubblica dell'Aquila e sfociata ieri nel blitz dei Carabinieri a Palazzo Silone, sede aquilana della regione. Un'inchiesta per corruzione, abuso d'ufficio, turbativa d'asta, ha lo stato ancora difficile da decifrare nella sua complessità anche perché divisa in tre filoni principali, due dei quali coinvolgono direttamente D'Alfonso come da lui stesso specificato. Filoni riguardanti tre appalti gestiti dalla regione Abruzzo, la ricostruzione di Palazzo Centi all'Aquila, danneggiato dal sisma, quello per i lavori di edilizia residenziale a Pescara, quello per la realizzazione del parco didattico del Lavinio. Per i lavori di Palazzo Centi sette persone sono indagate e tra queste non c'è D'Alfonso. I sette sono il capo della segreteria di D'Alfonso, Claudio Ruffini, e Eugenio Rosa, amministratore delegato della Icet Engineering, ditta arrivata terza nella gara vinta dalla Edil Costruzioni Generali di Isernia. I tre componenti della commissione di gara, i funzionari regionali Giancarlo Misantoni, presidente della commissione, Roberto Guetti e Silverio Salvi, e i progettisti Alessandro Pompa e Gianluca Marcantonio, da poco peraltro entrato nel comitato tecnico scientifico della struttura del commissario per la ricostruzione Vasco Errani. Le ipotesi di reato sono corruzione, turbativa d'asta e abuso d'ufficio. La procura contesterebbe pressioni per la scelta dei nomi in commissione e anche che i progettisti avrebbero avuto gli elaborati progettuali quattro mesi prima del bando di gara. Il presidente D'Alfonso risulta invece indagato per gli altri due filoni nel Pescarese. Il primo riguarda il preventivo di spesa per la manutenzione di immobili Ater City in via Salara Vecchia e in via Caduti per Servizio a Pescara. Con il governatore risultano indagati anche il progettista Gianluca Marcantonio e il presidente dell'Ater di Pescara, Virgilio Basile. Quindi c'è l'altra tranche pescarese, interventi del masterplan per il territorio di Letto Manopello, peraltro paese d'origine dello stesso D'Alfonso, per la progettazione del parco didattico del Lavinio. Gli altri indagati su questo versante sono il dirigente della provincia di Pescara, Paolo Dincecco, l'architetto Enrico Di Paolo, il geometra di Letto Manopello, Tino Di Pietrantonio e il responsabile ufficio a manutenzione dell'Ater, Carmine Morelli. Come specificato ieri da D'Alfonso, il governatore ha ricevuto richiesta di proroga di indagine su fatti legati a penne, iscrizione nel registro delle notizie di reato in data 18 novembre 2015, fa sapere lo stesso D'Alfonso. La vicenda riguarderebbe la vendita di una ex scuola. Ho fiducia nell'operato della magistratura, ha dichiarato D'Alfonso, così come ne avevo in passato quando è stata sempre accertata la liceità delle mie condotte amministrative.